Nel video precedente filmatone riccardo scopo boh ciao a tutti ragazzi un nuovo video qui Mirko e Riccardo e siamo con JusticDobb3 perchè siamo su Pre3 siamo sulla stifia del Linue 2 e siamo su FIFA 12 squadre casuali insieme io e Riccardo 3,2,1 bio è la sverona che taffe porca paletta che buccia di culo Riccardo partite quelli gialli a Federico quelli sono Riccardo abbate con 2b qua rodriga fa un passo dal vantaggio che taffe eccolo questo cazzo lontana casiglia se può ripartire il verona berrettoni oh berrettoni berrettoni si berrettoni l'asen e michael attenzione perchè si gira michael 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 quadriguez si smacca quadriguez in aria e tira gol si 1 a 0 quadriguez la butta dentro 1 a 0 per i padroni di casa alfredson 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 si cazzo nooo che nooo nooo mamma mia ricopa alfredson nicola ferrari la pareggia il verona nicola ferrari ferrari corre come una ferrari sotto la curva gol di mercedes mamma mia mamma mia mercardo io non so se è nicola nino daniele per un anno guizza quando il gioco non ci sa perci i carelli attenzione perchè può ripartire l'ellas e brutto fallo e questa è da rosso e questa è da rosso e questa è da rosso ma andiamo in casa in 10 si ma ti faccio il culo proprio nero te lo d'arturo proprio un sadomasonale cazzo maglietta alfredson si ma è forse quello di non è quello di alfredson 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 cambia gioco su berrettoni che non è fuori gioco berrettoni è tutto solo berrettoni berrettoni 2 1 2 1 a casa eugenio berrettoni 2 1 berrettoni alfredson alfredson il verone avanti clamorosamente una squadra di serie b incredibile incredibile e mirchetto 91 mamma mia il gol alfredson Diego castro 45esimo il momentum è dalla parte di riccardo russo 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 prosi in mezzo i cesaroni no no 40 no no la ronaldo il suo vertice guza guza è tutto solo va il gol della merda il gol della merdissima no no di rigore si cazzo si 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 calcio di rigore tensione il getafe può passare in vantaggio Diego castro la punta dentro 3 a 2 getafe al 62esimo il getafe avanti in 10 uomini alfredson 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 non va dai no di merda oh la rodriguez è fermato forse l'abito da un altro rigore invece no tiro attenzione il gol il gol si si riscardo spruzza ma subito vedere ferrari ancora d'alessandro ha penetrato summit dell'ellas d'alessandro 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 rinari 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 russo russo di nola si gira il crassino ferrari no stico no vedi perché vedi che vedi che l'alessandro in aria Ferrari alfredson stop sinistro e vabbè e vabbè ma che finisce qui riccardo batte federico 4 a 2 l'ho dominato prima partita vita da riccardo adesso dovremo giocare io e riccardo vabbè 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 gioco di merda figlio sempre così io sempre io scelgiamo la squadra 3 2 1 uguali che cosa no io forse un po' di più il centrocampo ma te hai difesa di più vai io ho il bologna francese dai e io ho il ginnastica e non so che eh cambia maglietta vai rega col bologna francese con lo scologno mozzese paviene già mi piace saliburg lo stop per sinistra saliburg 1 a 0 a bologna salibur il negro per eccellenza col numero 24 issaum saliburg mamma mia che top players saliburg u alla brart 2 a 0 a bologna all'arte è tutto un'allarme è tutto un'allarme il bologna è tanti 2 a 0 a quindicesimo mamma mia allerta stadio ragazzi che cazzo mo se io tira si tira gol 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 sempre così li fai assurdo raga si 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 allerta 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 3 a 1 bologna no 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 che cazzo che ho fatto a portiere che cazzo fai che cazzo che cazzo che cazzo che fa sollevata di me a portiere dai 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 no l'ha preso vaffanculo mia ci stanno mai respinto assurdo oh 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 fallo no cazzo porta vuota dai io non c'è pure l'exortir bellissimo attenzione show godir mamma no all'arto all'arto sempre una tripletta ma che fenomeno è ragazzi ma che fenomeno è all'arto è tutto un'allerta mamma mia all'arto meteo alessandro allerta lui si che fa le previsioni giuste ragazzi tocca che da lui il picchetto altro che il gg buffone dai dai mamma mia che azione 5 a 2 bologna iaiaturi no zazature zazature la butta dentro zazature mamma mia che gol del bologna ragazzi un gol che non ho mai visto neanche da una squadra professionistica mamma mia zazature all'arte no che cosa sbagliato si grazie perché adesso no rica io non c'ho parole perché adesso no rica io non c'ho parole no rica funziona di quanto uscita mia mamma mia no 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 calciutando rica 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 e fa il fallo vai bravo no siiii siiii si che si ha mangiato meno male l'ho tirato sul primo palo e via si fuori e finisce qui 5 a 2 io contro vederico 3 2 1 barcellona b capito ti sai vedere non so barsa bria a steak vai barcellona inondala alvarez almeno posso dimmi scappare vai te io vai fallo te io no l'ho sbagliato tira cazzo tira cazzo tira cazzo tira cazzo tira ma chi è questo becam in mezzo via sborio 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 di mare sborio di sale un gusto un po' sborio che mi riempie il culo di gusti lasciati dai dai 1 a 0 meno 1 i differenziali alvarez espanola non me c'è troppo alvarez 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 in the box v no vai go go è spindola non hai visto che ha fatto è spindola non hai visto che ha fatto così in questo caso io arriverai secondo me riccardo terzo dai dai ma questa è una partita da vincere perché sul 3 a 0 ma non hai visto che ha fatto fai gol e basta sul 3 a 0 lo vinco io eh no dai dai alvarez tiana è 2 a 0 fuori gioco fuori gioco fuori gioco è spindola no è spindola oh non li no 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 meraviglio andiamoci a prendere sto primo posto andiamoci a prendere con il cuore le partite si fanno con il cuore cioè ha preso il primo posto sta vincendo attenzione solo no no dai che cazzo oh johnson 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 attenzione solo nooo sei un malato del cazzo ti prego ti prego milco tutto ma non farti incendere te delicare stai zitto porco dio mi metti solo ansia ebbia zitto ma guarda alvarez assurdo vai ballo non ha dato no ma cosa fallo ci deve sta ah ricordiamo che con questo risultato io sarei primo addirittura incredibile perché carmona carmona nooo come si fa ci vuole un fisico bestiale morales lo sa paolo junior appena entrato velocissimo paolo junior la difesa tutta paolo junior johnson ma c'è un qualche giocatore forte paolo junior paolo junior per chiuderla paolo junior paolo junior te la chiudi è così chiusa è così chiusa in questo caso per ora servono due gol per farmi scendere dal primo posto due gol in 35 minuti mamma mia perché nella sfida del lunedì tutto può succedere tutto e riccardo non uscirà vivo da casa mia se finisce così non uscirà vivo è assurdo è assurdo guarda guarda che partita è ma che partita è ma che partita è ma sta ma scherzau ma che partita è non c'ho parole no dai l'ha sbagliato l'ha sbagliato gioca al barcellona l'ha sbagliato non c'ho parole non c'ho parole non ho parole non ho parole per scrivere ciò che ho no che cazzo lunga l'ha a finire che arrivo ultimo ma no adesso assurdo oddio no aspetta che si segna ancora momentanamente io sto a pari con riccardo paolo junior paolo junior come cazzo ha fatto che si è da pari passi far male se non è un'altra l'idea il terreno è meglio che vincere il v 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 t v v v v v tempios league, cazzo tu è anche europeo? perdono palla cazzo! non la buttano dentro io lo dico se rimane 4 a 0 a 90s non puoi fare così non la faccio non facciamo incredibile! il portiere decide di fare tutto da solo che strugazione no! 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 chi è riuscivato dal portiere? chi è riuscivato dal portiere? chi è riuscivato dal portiere? non la faccio no, non potete fare così, è una merdata devi stare attento a non lasciarsi più girare di mano la situazione no dai cazzo mamma mia che detesto, sono un po' handicappati guarda! la riputtano in aria ma vorrei capire con l'altra la porta è cambiato il campo no no paolo junior si 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 finisce qui finisce qui sono arrivato a primo Mirko secondo e Riccardo ultimo si non ho mai visto una squadra del genere non ho mai visto una squadra del genere io non ho mai visto una squadra del genere ma per provare vediamo che tanto farà si parte perché è giusto così swag se magari te lo posso mettere finita finita pò di olio ma l'hai mai mai fatta con l'olio olio e uova metti un po' d'acqua e la sua parola e la sua parola sentiremmo assaggiata comunque un bordello d'olio metti un po' d'acqua che schifo metti l'acqua se no non va finito tranquillo guarda il bianco sopra com'è? hai inquadrato come si vede da sopra? no ehi che cazzo che cazzo fai? ma guardalo almeno il bianco sembra latte sì ma magari va bene buona com'è Mirko? sentito vai la tattica del naso Mirko la tattica del naso no non ha funzionato che schifo che schifo hai dietro? no che schifo hai dietro? mi sta sforzando mi attacchi i filetti mi attacchi mi attacchi i filetti mi attacchi i filetti si mi attacchi i filetti mi attacchi i filetti mi attacchi i filetti mi attacchi i filetti Dai è finito. Fa troppo scherzo. Finito. Anti-ebola. Dai che è finito. Basta. Hai detto, te lo lascia un goccino? No, mi senti. Ci becchiamo con la tortura di Riccardo. Ma perché Mirko sta allargimando? Adesso siamo sulla penitenza di Riccardo. Perfetto, perché? Sto godendo come un maiale. Riccardo farà un caffè, ananas e paprika. Preghiamo il Dio che fa scherzo. All in ragazzi. Sono ticheso che tu lo dici. Senti. Ah, il caffè è buono. Ma il caffè è mezzo scherzo. Questo è il cappuccino. Sì, vabbè, mica non finirà tutto. Ed è più di quello di Mirko. La quantità. Chi è, raga? Aspetta, a me ce l'ha? Pare tipo cioccolata calda. È troppo. Oregola di quella patica. Cioccolata fredda. Ma me lo è molto lo scolo questo. Cosa? Questo quadro lo sguardo un po'. Dai, scendiamo. Ah, è troppo. Ci ho provato. Sì, col cavolo. Fa vedere con te. È troppo, hai fatto una montagna. Hai fatto una montagna di paprika. Mischia, mischia. Cazzo, cazzo. Cazzo. Mi c'è bastante uno sputo dentro. No, quel cazzo. Vai. Dai, assos. Mostriamoci. Guarda, lo scudo potrebbe essere la mia, da. L'ananas. L'ananas. In fase di elaborazione, sono in angolo. Dovete sapere, ragazzi, che l'ananas... Aiuta. Aiuta molto le vostre ragazze. Non fa manco non più schifo. Dici? Sì. Secondo me non è che sta a farlo schifo. Ma tanto si buca. Non do meno più di tanto. Buono, buono. Com'è? Dalla situazione, com'è? Ehi, cazzo. Mi raccomando una cosa, meno male che ci ha messo l'ananas, porca troia. Va bene. Che oggi devo andare con tua madre. Mi sentiva. C'è il tuo. Vai, ricordo. Vai, ricordo. Giù, giù, giù. Vi faccio qua. I regali stiamo registrando con... Con la doppia. Com'è? Guarda. Non scende più. C'è blocco? E che schifo, ha fatto lo spudino. E' a bau. Che sì. Riccardo, questi capelli, pare il nemico di Falcari 4. L'ancato di massa. Schifo, riccardo. Mi raccela faccio la faccia. Lo beve, ma non va più giù. Cioè... Si è bloccato. La gola, lui, che mi manda dentro. E' schifo. Non finisce più. Quanto preparare il calcolo del camion. Schifo. Non mi ha fatto anche più. Eh, rischiare. Mi ha finito tanto. No, allora, faccio. No, è la gola che mi ha... Ha un goccio, riccardo. Vada, prenderemo provvedimenti, eh. Vada, prenderemo provvedimenti, eh. Io l'ho finito. Era guarda, non era vencita una rama. Tu mi hai detto lasciami un goccettino. Mi sentire l'odore. Eh, te l'ha lasciato il goccettino. Mi sono sniffato mezza paprika, mi sono sniffato. Mezzo barattolo di paprika. Ma montagna di paprika. Che schifo. Eh, è finito. Che cazzo. Vabbè, regà. Spero che il video vi sia piaciuto con le penitenze. La prossima sfida di lunedì sarà nuovamente così. Vincerò io. Perché vincerò io. Riccardo fa tirare bene dell'inferno un'altra volta. E qui, il progetto da Federico. Accio. Accio. E Riccardo. E Riccardo. Bella. Bella.